Parla tifoso napoletano, stai bene? Nel video di oggi affronteremo una preoccupazione in squadra, poiché un giocatore potrebbe andarsene. Ma prima, vorrei chiederti di lasciare il tuo mi piace e di iscriverti al canale. Anche il Napoli, che si prepara a rimettersi in sesto dopo la sconfitta con il Milan, punta sul futuro della squadra, e c'è preoccupazione per un giocatore in particolare. Diego Demme, centrocampista italo-tedesco, sembra salutare il club al termine di questa stagione. Il giocatore ha capito che nel Napoli di Spalletti non c'è posto per lui ed è pronto ad accettare la soluzione drastica della cessione. Nonostante abbia fatto parte del progetto lo scorso gennaio, Demme è fuori dai radar dell'allenatore e sta valutando proposte, sia in Italia che all'estero. Il Napoli punta a monetizzare con la vendita di Diego Demme, poiché il suo contratto scade a giugno 2024, e club come Fiorentina e Salernitana sono opzioni in Italia. Secondo me Diego Demme non è stato utilizzato in questa stagione e la migliore via d'uscita sarebbe quella di vendere prima di arrivare a parametro zero, visto che non ha trovato spazio in campo. Caro tifoso napoletano, credi che Diego Demme meriti ancora una chance in squadra o sarebbe meglio cederlo? La tua opinione è molto preziosa, lascia un commento qui sotto. Presto, porteremo maggiori informazioni a riguardo. Forza Napoli sempre!